Nel IV secolo a.C. si stanziò nella zona centro-settenzionale delle Marche la tribù celtica dei Senoni. Erano gruppi per lo più maschili che hanno lasciato come testimonianza sul territorio numerose tombe con le loro armi. Oltre alle tombe maschili sono state individuate anche delle sepolture femminili di grande ricchezza. Alcune di queste deposizioni rinvenute a Montefortino di Arcevia testimoniano una ricchezza straordinaria. In particolare una di queste tombe ha restituito ben tre corone d'oro e un ricco corredo di gioielli. Sono un indizio chiaro dell'alto rango di questa defunta la quale aveva poi come accompagnamento anche un ricco corredo formato da basi che servivano per il banchetto e per il simposio oltre ad oggetti da toletta che costituiscono il corredo tipico muliebre. Questa presenza in particolare degli elementi del banchetto e del simposio denotano come questi gruppi di scelti stanziati nella nostra regione avessero recepito l'ideologia del banchetto ripresa dalle civiltà orientali e dalla Grecia. Queste preziose corone vennero realizzate molto probabilmente da maestranze della Grecia settenzionale. La sepoltura appartiene alla fine del III secolo a.C.